Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max, la nuova azienda unica di trasporto pubblico abruzzese punta sul ferro. Lo ha detto a Lanciano il sottosegretario di giunta regionale Camilo D'Alessandro con delega ai trasporti. Intanto si lavora per scongiurare lo sciopero proclamato per il 29 maggio da vari sindacati. Hanno comunque firmato l'accordo nei giorni scorsi con la regione Cisle, Will e Faiza. Il futuro di Tua è nel ferro. Lo ha detto a Lanciano a margine del rinnovo dell'accordo tra Sangritana e la francese Cap Train per il trasporto dei furgoni prodotti in Seville e il sottosegretario alla presidenza di giunta regionale Camilo D'Alessandro, delegato ai trasporti. Il ferro, rassicura D'Alessandro, è strategico per la nuova azienda unica di trasporto regionale. Lo avevamo detto prima che la società venisse costituita e istituita. Lo abbiamo ribadito nella scelta fondamentale che è il piano industriale, su cui si fonderà la nuova società unica dei trasporti. Ha vinto la scelta fondamentale di non marginalizzare il ferro e di farla diventare la scelta strategica della nuova società di trasporto. Hanno perso i chiacchieroni peggioristi in seduta permanente che solo qualche settimana, mesi fa, raccontavano di assassini, di scippi a Lanciano e alla Sangritana. E sullo sciopero annunciato per il 29 maggio, tre sigle sindacali, CISL, Will e Faisa, hanno trovato l'accordo nel tavolo del 20 maggio scorso, con lo stesso D'Alessandro e l'assessore al bilancio Silvio Paolucci, il quale ha garantito una variazione di bilancio di circa 5-6 milioni di euro per ridurre della metà Italia al settore. Garantito anche il livello occupazionale, nessuno dei 1.600 dipendenti complessivi di ARPA, GTM e Sangritana rischia il posto di lavoro. Per D'Alessandro, quindi, non c'è motivo di scioperare. Ma è evidente che io lo ritenevo e lo ritengo e ancora di più, dopo l'accordo sottoscritto con le altre sigle sindacali, assolutamente pretestuoso, fondato su nessun argomento vero, valido, anche perché abbiamo dato tutta la nostra disponibilità a rivedere il piano industriale, ma soprattutto abbiamo rimesso soldi sul primo taglio effettuato da parte del Governo regionale sui trasporti, 10 milioni prima, oggi il taglio si ridurrà a 4-5 milioni, quindi oltre il 50% restituito sul fondo dei trasporti, perché dimostra la volontà di ragione. Purtroppo l'abbiamo potuto fare solo adesso, perché solo adesso abbiamo avuto la certezza e la contezza di nuove risorse in bilancio disponibili. Soddisfatta dell'accordo raggiunto la Wille Trasporti, il segretario regionale Giuseppe Murini. Noi abbiamo sottoscritto due accordi molto importanti presso la regione, proprio con l'intervento del sottosegretario D'Alessandro. L'ultimo più recente è quello che prevede una diminuzione del taglio sul fondo regionale dei trasporti per ben 6 milioni di euro. Questo significa poter affrontare la programmazione della nascita dell'azienda unica di trasporto, ma dare anche una mano al settore dell'imprenditoria privata che vedeva strozzare le risorse a disposizione per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Un altro accordo importante che abbiamo sottoscritto come Wille Trasporti alla presenza sempre del sottosegretario e del presidente Di Nardo è quello che di fatto sblocca con l'intesa del presidente D'Amico il reperimento di personale da inserire nel settore del ferroviario. Queste attività che sono state presentate oggi aggravano ulteriormente il carico di lavoro su quel personale. E' necessario quindi immettere immediatamente forze nuove per poter rispondere in tempo reale a queste nuove esigenze di trasporto. Voltiamo decisamente pagina. Non passa al Parlamento europeo la direttiva sul congedo di maternità. Ne riferisce al Tg Max l'onorevole Daniela Aiuto, portavoce del Movimento 5 Stelle, facente parte del gruppo EFDD. E' l'euro parlamentare abruzzese. Ma a quanto pare non riusciamo a concretizzare politiche di incentivo alle nascite. Ed anzi, dopo anni di stallo andiamo verso il ritiro della direttiva sul congedo di maternità. Con ogni mezzo ci siamo opposti e ci opporremo a questo scandalo. Il Consiglio non ha mai messo il tema all'ordine del giorno e di recente la presidenza Lettone non si è nemmeno degnata di presentarsi a discuterne in Commissione FEM. Non passa alla direttiva del congedo di maternità a Strasburgo. Se ne era fatta promotrice durante l'ultima sessione plenaria l'onorevole Daniela Aiuto, ero parlamentare abruzzese del Movimento 5 Stelle, gruppo EFDD. La direttiva era bloccata da 5 anni in Parlamento. La cattiva notizia riferisce l'onorevole Aiuto, membro della Commissione FEM sulla parità di genere, e che il Consiglio ha intenzione di ritirarla, minori tutele dunque per le donne in maternità. Andrà a finire che il Consiglio, in questo caso la presidenza Lettone, ha chiaramente indicato che verrà ritirata questa direttiva. È una direttiva che è bloccata da ormai 5 anni. Noi sappiamo che in Europa vige attualmente la direttiva del 92, che riguarda il congedo di maternità, che prevede 14 settimane minime di congedo di maternità. Durante questi ultimi anni, appunto 5 anni, si è dibattuto tra Parlamento e Commissione europea per cercare un accordo per incrementare queste settimane. Il Parlamento voleva incrementarle a 20. La Commissione invece era ferma sulle 18 settimane, chiaramente motivi economici non hanno mai fatto trovare un punto di incontro, e adesso noi vorremmo portare avanti, noi come Parlamento, vorremmo perseguire e portare a termine questa direttiva sulle 20 settimane, ma il Consiglio ha fatto sapere che lo ritirerà. Per cui ci troviamo a dover, per l'ennesima volta, vedere avanzare quelli che sono gli interessi economici di questa Unione europea, a discapito dei diritti, in questo caso delle madri, delle madri lavoratrici. Il Presidente del Tribunale collegiale di Pescara, Angelo Zaccagnini, è assolto perché il fatto non costituisce reato. Il Vigile Urbano, Angelo Volpe, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda relativa al mancato pagamento di una multa per divieto di sosta da parte del questore di Pescara, Paolo Passamonti, al quale era stato restituito il veicolo rimosso dal carroattrezzi. Il PM aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato, non c'è prova che sia stato Volpe addetto a divulgare la notizia e al limite può essere stato l'ex comandante Grippo, la cui posizione è stata però archiviata a fare un cattivo uso delle informazioni. Per il PM Volpe si è limitato a prestare aiuto al collega di Sabatino, l'autore materiale del verbale di multa. La vicenda ebbe anche ribalta nazionale. Reddito minimo, SEL Abruzzo rilancia la proposta di una legge regionale sul reddito minimo garantito di 600 euro mensili per disoccupati, inoccupati e precari. L'iniziativa è stata presentata oggi. Dopo l'impegno a livello nazionale, Sinistra Ecologia e Libertà rilancia anche in Abruzzo la proposta di una legge regionale sul reddito minimo garantito, finalizzata ad offrire a disoccupati, inoccupati e precari un sostegno di 600 euro mensili. Per gli esponenti di SEL la crisi economica ha pesanti ripercussioni soprattutto sulle giovani generazioni costrette alla precarietà e all'assenza di prospettive professionali certe e garantite. L'istituzione del reddito sociale diventa quindi una misura concreta per aiutare i giovani a allontanare i rischi sempre più forti dell'esclusione sociale legata alla precarietà. Tommaso Di Febo, coordinatore regionale SEL. Oggi ripresentiamo una proposta di legge regionale per l'istituzione del reddito minimo garantito che altro non è che un sostegno economico per i disoccupati, per gli inoccupati e per i precari. E soprattutto uno strumento per l'inclusione sociale e uno strumento per la sicurezza sociale per costruire una società in cui nessuno resti indietro. La copertura finanziaria, ha spiegato il deputato abruzzese Gianni Melilla, deriva da una legge presentata dall'ex assessore regionale Franco Caramanico e che prevede di recuperare 40 milioni di euro derivanti dalle aziende che usano l'acqua a fini idroelettrici, aggiornando i canoni alla media nazionale. Non è una proposta assistenziale, ha spiegato Melilla, è presente in tutti i paesi tranne la Grecia e l'Unione Europea, ha infine ricordato il deputato, ha già censurato l'Italia perché non ha il reddito minimo. Paura alla scuola media dei Petra di Casoli, dove questa mattina durante la pulizia di magazzini è stata ritrovata una cassa di legno piena di ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale. Sul posto sono giunti gli artificieri del comando provinciale Carabinieri di Chieti che hanno controllato bombe a mano, mortai e granate che alla fine sono stati ritenuti inoffensivi e privi di potenziale pericolosità. Esperti e personale scolastico hanno convenuto, infatti, che quasi certamente si trattava di materiale a scopo dimostrativo didattico utilizzato per educare gli scolari di un tempo sulla natura e tipologia delle bombe che all'epoca venivano costantemente ritrovate nei terreni agricoli e costituivano grave pericolo per l'incolumità. Comune di Pescara, istituto alberghiero De Cecco, insieme per Urban Food, l'appuntamento è per il 28 maggio prossimo da mezzogiorno a mezzanotte in Piazza Muzzi. Il comune di Pescara e l'istituto De Cecco, insieme per Urban Food, un giorno intero di enogastronomia e spettacolo nella zona del mercato coperto di Piazza Muzzi. L'appuntamento è per il 28 maggio da mezzogiorno a mezzanotte. La filosofia di questo evento, ha detto il dirigente scolastico Paolo Buzelli, è molto semplice. Vogliamo sperimentare l'uscita dall'aula per una lezione all'aria aperta e usare il mercato come polo didattico. Una giornata speciale, ha sottolineato l'assessore comunale ai grandi eventi Giacomo Cuzzi, soprattutto per la grande attenzione sulla città di Pescara e le sue eccellenze enogastronomiche generate da Expo 2015. Un bel progetto che riguarda la calendarizzazione delle iniziative che stiamo tenendo in occasione dell'Expo e quindi del calendario dell'Expe che si terrà qui sul territorio, un Urban Food che si terrà il 28 maggio, che coinvolgerà le nostre strutture mercatali di Piazza dei Muzzi e che servirà alla valorizzazione del cibo, della territorialità dei nostri prodotti ed anche ad aumentare l'attrattività e la cultura enogastronomica con l'istituto alberghiero De Cecco che è un'eccellenza per la nostra città. I grandi protagonisti dell'evento saranno gli studenti che per la prima volta si sono occupati di un progetto così articolato che ha coinvolto gli indirizzi sala, cucina e ricevimento per promuovere l'uso corretto del cibo. Barbara e Monica. È partito tutto come un progetto didattico, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione e abbiamo deciso di passare dalla teoria alla pratica, proprio a livello pratico, come organizzare un evento. Abbiamo invitato a partecipare ai convegni anche il Vignaiolo Valentini e Di Renzo che sono molto attenti sui temi legati all'alimentazione genuina, alla filiera a chilometro zero, alla sostenibilità. Manifestazione di protesta stamane davanti ai cancelli della cartiera Burgo di Avezzano. Gli autotrasportatori della Marsica hanno bloccato alcuni camion diretti a Bergamo guidati da autisti campani. Gli autotrasportatori marsicani contestano l'accordo che l'azienda ha stipulato con vettori di altre regioni per il trasporto della carta in Italia. Il blocco riguarda esclusivamente i mezzi che non appartengono a società o cooperative della Marsica. Ed ora la pagina del calcio di Serie B. Al via domani i preliminari play-off alle 18.30 Perugia-Pescara e alle 21 Spezia-Vellino. Vicenza e Bologna attendono in semifinale. E' già vigilia dei preliminari play-off. Domani alle ore 18.30 il Pescara sarà ospite del Perugia. Si gioca in partita unica. In caso di parità ci saranno i tempi supplementari. Poi agli Umbri basterà il pareggio per approdare alle semifinali, mentre gli abruzzesi dovranno solo vincere. Una sfida con tanti motivi. A iniziare dai pescaresi presenti nello staff tecnico del Perugia, Andrea Camplone e il suo vice Giacomo Di Cara, che da calciatori sono stati vere e proprie bandiere biancazzurre. Ci sono anche alcuni ex tra i giocatori. Massimo Oddo intenzionato a riproporre il 4-2-3-1, con il quale ha vinto all'esordio in panchina contro il Livorno. In difesa Rossi è squalificato. A sinistra giocherà Puccino. A destra rientra Zampano. Al centro Salamo non è al meglio. Insieme a Fornasier potrebbe esserci Zuparic. A centro campo, convocato anche Biarnason, ma sul suo impiego si deciderà soltanto domani. In attacco ancora Melchiorri con Sansovini pronto a subentrare. Arbitro designato Michael Fabri di Ravenna. Massimo Oddo è sicuro di sé. Il Perugia sulla carta è favorito perché ha due risultati su tre, ma dico che il Pescara può farcela. Noi siamo forti, ha detto il neotecnico pescarese. Il Perugia, che in casa ha perso soltanto contro il Frosinone, è molto temibile nelle ripartenze. Ed è probabile che domani non farà una partita all'arrembaggio. Camplone alla rosa al completo. In avanti potrà scegliere se far giocare insieme Ardemagni e Falcinelli, ma è più probabile che sia Fabigno ad affiancare uno dei due. Nella stagione regolare sono finite in parità entrambe le sfide tra Perugia e Pescara. L'altra partita playoff si giocherà alle ore 21 di domani e vedrà di fronte Spezia e Avellino, mentre il Bologna e il Vicenza, che sarà l'avversaria del Pescara in caso di passaggio del turno dei Biancazzurri, attendono in semifinale. Per i play-out salvezza invece saranno di fronte Modena e Virtus Entella, con Cittadella, Brescia e Varese già retrocesse. Sarà ancora più importante, per il mio punto di vista, ancora più importante contro il Perugia avere e proporre una mentalità così come quella fatta contro il Livorno, perché il Perugia ancora più del Livorno è una squadra che è fortissima nelle ripartenze e si chiuderà, penso. Immagino che non farà una partita all'arrembaggio, sarà una partita del Perugia attenta, sfruttando quelle che sono le loro caratteristiche principali, che sono appunto le ripartenze. Sono bravissimi. E quindi ancora di più che contro il Livorno, questo atteggiamento di coraggio, di andare in avanti, di non scappare indietro e di stare corti sarà fondamentale. E a Lanciano e i Rossoneri si ritroveranno mercoledì in sede per partecipare a varie iniziative programmate sul territorio. Tiene banco adesso la programmazione per il nuovo anno insieme alla questione stadio. Virtus ora davvero in vacanza. La squadra, dopo la sconfitta di Bologna che ha chiuso la stagione regolare, si ritroverà a Lanciano mercoledì, ma saranno giorni tutti dedicati a particolari iniziative. Mercoledì mattina è infatti previsto lo sponsor tour. Giocatori e staff tecnico a bordo del pullman ufficiale visiteranno tutte le aziende che hanno sostenuto il rossonero per la gioia dei dipendenti tifosi. Giovedì sera cena sociale in un ristorante di Miglianico. Venerdì mattina la visita alla scuola primaria di Santa Maria in Baro. E poi la sera bagno di folla per l'inaugurazione del nuovo store in via Montemayella, ovviamente a Lanciano. Poi il rompete le righe con le certezze per il futuro che riguardano tutto lo staff tecnico confermato in blocco e senza patemi d'animo. Mai era successo di vivere con tanta tranquillità la fine di maggio negli anni di Serie B. Dunque D'Aversa e Tarozzi si consulteranno con la società per stilare programmi, conferme, volti nuovi con l'idea però di mantenere l'assetto attuale della Rosa senza scompaginarla. Dunque si proverà a rinnovare il maggior numero di prestiti possibili. Altra situazione molto delicata resta quella dell'impianto frentano. Entro la fine di agosto la Lega prevede distinti nuovi di zecca. Il Comune fa orecchie da mercante lamentando le solite casse vuote. La società è stanca di spendere per lo stadio risicando così il budget necessario ad allestire una squadra competitiva. Previsto comunque nei prossimi giorni un incontro per trovare una soluzione. 200.000 euro il costo dell'operazione, 40 giorni circa ai tempi di costruzione. Temi che saranno affrontati anche nel corso della trasmissione ufficiale della Virtus Lanciano. Il Tg Max termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che Tg, servizi e programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it, ci trovate anche al nostro canale YouTube e ai profili ufficiali di Social Network, Twitter, Facebook e Google+. Grazie per l'attenzione, arrivederci.